Amici e amiche di Sportome, benvenuti dal comunale di Motta Sant'Anastasia. Per FC Motta, Ciclope Bronte, gara valida per il campionato di promozione. Di Maria si affida a Guli, Conigliello, Oliveri, Maesano, Sardi, Parisi, Palazzolo, Luca, Inserra, Sottile e Sinatra. A disposizione Sciuto, Coniglio, Nicolosi, Piana, Toscano, Mondello, Ferlito, Ruscica e Montalto. Rispondono gli ospiti con Palermo, Scafidi, Basile, Catania, Spitaleri, Ruffino, Proto, Leanza, Salanitri, Merito e San Filippo. A disposizione Citriglia, Orefice, Martelli, Ngida, Sottosanti, Prestianni e Allia. Dirige l'incontro il signor Giovanni Marco Arena della sezione di Palermo. Coadiuvato da Artellini di Ragusa e da Saracino di Ragusa. Gioca nella propria metà al campo l'FC Motta. Pallone in verticale controlla Sinatra che prosegue l'azione da solo. Si accentra il numero 20, carica il mancino. Fuori misura questa conclusione. Rimessa laterale per la Ciclope Bronte. Va a vuoto San Filippo, c'è la deviazione. Poi si gira Ruffino. Rimane in traiettoria il portiere del Motta. Ma occasione per gli ospiti. Riceve sulla destra Sinatra. Pallone orizzontale per Luca. C'è la pressione di un avversario. Scarica quindi sulla corsia Mancina. Qui c'è la conclusione. Risponde in corner Palermo. Grande occasione per l'FC Motta. Ruffino, punto un avversario. Poi scarica sulla destra per San Filippo. Controlla. Si accentra il 22, c'è la deviazione. Ci prova la formazione rosso-nera. Finisce così quindi il primo tempo 0-0 fra FC Motta e Ciclope Bronte. C'è la doppia sostituzione per il Motta. Entra Capitan Montalto. Fa il suo ingresso in campo anche Piana. Si gioca quindi le proprie carte di Maria. Possesso per il Motta nella propria età campo. C'è la pressione di San Filippo. Arriva anche l'intervento di Ruffino. Senza fallo secondo il direttore di gara. Prosegue il 9. Conclude. Risponde Gulli e poi libera l'area un compagno. Luca, pallone filtrante nella zona di Inserra. Ad avanti Basile il numero 9. Poi va da Montalto. Che si divora il gol del vantaggio. Occasionissima per il 10. Corner dalla sinistra per il Motta. Stacca prima di tutti Montalto. Fa 1-0. Subentra dalla panchina e la sblocca lui. Il capitano. Festeggiano tutti intorno al numero 10. Rivediamo il suo tocco decisivo. Convalida Arena ed è 1-0 FC Motta. Possesso per gli ospiti. Riceve Ruffino. Trova poi Ingi Daga e gli restituisce il pallone. Ci prova Ruffino. Blocca Gulli. Prova l'ultimo assalto alla formazione ospite. Qui c'è un colpo di testa ad anticipare. Poi guarda l'orologio Arena. Dice che può bastare così. FC Motta batte Ciclope Bronte. 1-0 grazie alla rete di Montalto. 1-0 grazie alla rete di Montalto.